bello a tutti ragazzi e ragazzacci per tenere questo nuovissimo video di clash of clans scusare se non ho portato clash of clans oggi stamattina si è finito il caricamento di clash royal allora andremo a fare i primi due avvisi portati che ho fatto questo al 3 e questo al 4 andiamo a fare un attacco andiamo non è Vieni che già non ti ricordo Mamma mia raga Scusate veramente Papà Raccontate pure voi Cosa fate Cosa non fate Ho un sonno Vabbè Già Vabbè Ho forse uno che ne trai dici Lo attacchi Vabbè Ma Tutti forti Puh Ho attacco a voi Questo non c'è niente Però Ecco qua E puttiamo Tutti forti Almeno qua E lo guardiamo qua Perfetto qua E il drogo qua E il gigantino Del titolo E c'è Raga Questo per me Cioè guardare Ho messo una tese d'acqua Buh E dunque Oddio Ho già una stella Mamma mia Circa aumenta E l'acqua Ecco qua Ecco qua Il peccato E muore Mamma mia Che attacco stupendo Abbiamo fatto Stupendo Stupendo Ho già Ho fatto il 100% Che abbiamo fatto Ci sta Cosa 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 E l'ho fatto E l'ho fatto 300% E l'ho fatto Ecco qua Ecco qua Vanno a distruggere La terra Ecco qua C'è un sacco di te E la faremo Dai, dai, dai C'è stato pure il mini piccolo Ecco qua, ottimo, 100% Ottimo bottino E questa ve l'avevo detto a 3 e questa a 4, sì Un po' di bambino Che facciamo? E ci vuol dire E ci vuol dire C'è stato? E ci vuol dire E ci vuol dire ? E ci vuol dire C'è stato? E ci vuol dire C'è stato? Oh, mamma mia Forse io non c'è il muro qua Anche il regalo Ci ho fatto solo un paio di muro Ho diminuito i suoi sorgi Vabbè Portiamoci i golem Ci facciamo Sì, dai Ci facciamo i golem All'altra caserma Così almeno dopo Eh, no, sì, i golem I domatori Così almeno Qua cantina è questa Quattordici Più quattordici Quazzo Quattro 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 Quattro